Superbo del mio silenzio. Vorrei frustare senza fermarmi gli adulatori e gli ipocriti, il prete corrotto e il politico pio e il cosiddetto probo che sulla sua creduta onestà mercanteggia con gli uomini e con Dio. Innanzi a questa ciurma resto superbo del mio silenzio. Commento. Resti fermo nella tua incomprensione perché questa ciurma non va frustata ma accettata come tutto ciò che accade nella condizione umana che contiene anche la tua superbia.